aspetta ok 3d là giù quello tira subito ma inizia c'è anche discesa si io sono spormonato spormonato non mi fa neanche rifiattare maledetto e quella era da saltare ecco effettivamente non ci giri là per recuperare alex inserisce il x2 non è bellissimo il terreno minchia odore di freni che hai sull'avvicino non so se sia tu o io non so se sia tu o io non 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 gli diamo un errore a ciascuno una volta Andre una volta Ale ah cazzo qua aspettami ok non 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 non